Grazie a tutti. Non c'è problema, se viene alla misofilità, avete capito? No, non ho capito. Mamma, adesso dovrei rispondere da baccata. Oh, va bene, ok. La villetta bella, quella bianca moderna di Vitiello. Très bien, a bientôt. Che invece sono carucci, questi marocchini, corelli. A tavola. Ma c'è ricetta di Ruggero questa, spaghetti, mare e terra, seppie, peperoni e pancetta. No, non ci serve niente, grazie. Oddio, mi sono scontata, io devo dare 15.000 lire. Che devi dare? E' il testocchiali che ho comprato. Fammi vedere. 15.000? Ma che è, non scherzo, eh? Pardon? Sì, pardon. Allora, io te propongo... 2.000. Eh? Oh, a questi gli piace così, se non fai la trattativa, è capace pure che soffri. Ti ho fatto ricordurare quelle parti. Un tempi c'ha... Per favore, bocchiali, costa 15.000. Je ne impasse, si se di mille, si se di mille, si sa di cento che sa. Che dice? Troie masse, è incredibile. Dicevo non gli piace riscuotere il pezzo, c'ho ragione, scusa, ma se mi sto accortando per 15.000 lire. Un momento. Mettate la sede, va. No, merci. Buon goccetto di vino? No, non bevo vino, grazie. Ma lo vedi, è una religione. Eh? Sei musulmano, no? Allora, fammi così, guarda. Io te do un'altra, 2.000, più l'avanzi del pesce di ieri sera, cucinato da mia moglie, tutta roba fresca, eh? 15.000, per favore. Ma perché? Non lo hai? Ma che la vostra religione non potete mangiare neanche il pesce? Eh? Eh, ragazzo mio, che te lo voglio dire? Cambiate l'altra religione, troppe proibizioni ci avete, peccato. Come sono questi spaghetti, eh, Marcello? Boni. Emily? Magnali. Magatze, ancora qua, sai? Guarda. Beccate pure queste. Adesso, per cortesia, arrivederci carinamente. Qui c'è una famiglia riunita a tavola, eh? Mi dispiace dirglielo, ma lei è veramente un ignorante. Gnacca, Gionco. Ma che ha detto, scusa? Tu, papà, un po' di... Lo ripeti un attimo. Basta sarà un po' no, vai. Ecco, bravo, vattene, 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 torna dal paese tuo, che qui d'ora c'avevamo tanti casini, ci mancavi solo te. Ma l'avete capito, questo? Questo non paga una lì alle tasse. Vende merci sicuramente rubate, magari il governo gli da pure la casa e il lavoro. Guarda, se c'è una cosa che non sopporto suoi parassiti, quelli che campano sul lavoro dell'altri. Che vergogno. No, non ho capito. C'è ragione lui, scusa, eh. Mamma sarà messa d'accordo per quindici me lì, lette, io lo sapevo, ma mi ha da piangere. No, Ruggero, per favore, calma. No, mamma lo deve spiegare, eh, perché tutto quello che dico io, tutto quello che faccio io non va mai bene. E lasciami. Non lascialo, non lascialo, va dentro, dai, mena, la fai male, su. Vabbè, capito, ma? Scusate, mi roviate il brazzo. Ruggero, mazza che sei. E meno male che non mi dovevo impicciare. Ma ne hai sentito? Beh. Quei parassiti, quelli che campano sulla fatica dell'altri, secondo te con chi c'aveva, eh? Con chi c'aveva? Che c'aveva con me? Oma, che c'aveva con me? Boh, io hai da figliate, e sapevo cucchiare. E come no? Oma, che c'aveva con me? Grazie a tutti.